Le daranno un premio per questo numero, rimaneranno qualche signorina, però capisci che lei deve pagliarsi in pari, ma questo modo è vergognoso, ma io non la faccio più parlare, è finita e ho certo che lei non dico più parlare perché le signorine le usavano i suoi uomini in Puglia per corrompere il pensione, le signorine le usavano i suoi uomini al suo braccio destro, il suo datore di lavoro, il suo datore non è andato in galera, il suo braccio destro è andato